con le note della banda bambitelliana qui a Bacoli in pieno centro in piena villa comunale si è inaugurata la superedizione della Champions Liga Bacoli di Cannaopolo siamo con Alessandro Scamardella consigliere uno dei promotori se non il principale promotore di questa iniziativa allora Alessandro nonostante il mal tempo adesso si comincia a divertire e a giocare Eh sì Paco ben detto purtroppo sono saltato un attimino tutte le previsioni era prevista una sfilata una parata con tutte le con tutte le spade di club provenienti da ogni nazione europea per le vie del centro storico arrivare qui in in villa comunale per poi cominciare la presentazione purtroppo una tromba d'aria che non era neanche così prevista per quest'ora ci ha evitato di poter portare a termine questa parata però non demordiamo eh diamo eh al via questa grande competizione europea la ricordiamo la Champions League di Cannaopolo presenti circa quattrocento atleti da domani mattina alle sette e trenta succederanno centotrentacinque eh partite fino a domenica sera alle diciotto. Siamo tutti presenti nonostante il tempo e nonostante il maltempo eh riusciremo a portare avanti questa manifestazione cercando di eh dare spettacolo alla cittadinanza a dare spettacolo a tutti gli atleti eh venuti qui da ogni parte d'Europa e eh con l'ospicio di organizzare qui a Bacoli e la Comissiano qualche manifestazione ancora più importante di eh carattere addirittura mondiale.